Scalzi in marcia, uomini, donne per denunciare il dramma dei migranti. A ritrovarsi domani alle 17 al Lido di Venezia raccogliendo l'appello lanciato dalla mostra del cinema di intellettuali, registri, attori, centinaia di persone provenienti da tutto il Veneto. A far suo l'appello anche la CGL che per l'occasione ha organizzato una motonave, 400 posti, che partirà dal tronchetto e traccherà a Piazzale Santa Maria Elisabetta. La marcia parte e percorre tutto il Gran Viale, poi arriviamo alla mostra del cinema che è il momento di visibilità anche, ma c'è sempre questa tradizione a Venezia della mostra del cinema, di cogliere come un momento perché è un segnale culturale. Molti nomi e i volti noti tra i filmatari dell'appello per la marcia delle donne e degli uomini scalzi, la luce annunziata a Roberto Saviano, da Gardlerne a Tony Servillo, solo per citarne alcuni. Un'iniziativa quella lanciata a Venezia che si allarga a macchia d'olio con simili manifestazioni a Verone e anche nel resto d'Europa. Pensiamo che questo sia proprio un segnale importante di civiltà, di maturità e vogliamo dare anche un appello a chi rappresenta il Veneto in questi giorni, insomma, di governare un fenomeno che va al di là dell'emergenza. Una marcia per chiedere con forza alcuni necessari cambiamenti delle politiche migratorie, dalla certezza dei corridoi umanitari sicuri per vittime di guerra, catastrofi e dittature, all'accoglienza degna e rispettosa per tutti alla chiusura e smantellamento di tutti i luoghi di concentrazione e detenzione dei migranti, ed infine creare un sistema unico di asilo in Europa superando il regolamento di Dublino. Una marcia di pace e di accoglienza, ma anche di riflessione. È sicuramente una marcia pacifica, la caratteristica di questa storia, una marcia che noi vogliamo allegra, una marcia positiva delle persone, dei cittadini che si riappropriano delle scelte politiche all'interno di questo Stato e in questa regione in particolare, visto che qualche difficoltà ce l'abbiamo.